L'uomo è un cosiddetto colono israeliano che vive nell'insediamento di Ishuvadam alle porte di Gerusalemme. Gli abbiamo chiesto di spiegarci il suo punto di vista sul conflitto israelo-palestinese e sulla questione dell'indipendenza della Palestina che dovrebbe aver luogo il 2 settembre. Sono originario degli Stati Uniti e sono immigrato in Israele dieci anni fa. Sono immigrato perché Israele è lo Stato degli ebrei e deve essere lo Stato degli ebrei. Al di fuori di Israele ero come un pesce fuor d'acqua. Tu vivi in un insediamento, quindi in un territorio che secondo gli accordi internazionali appartiene alla Palestina, ma che è stato occupato illegalmente da coloni israeliani. Che cosa ne pensi? In realtà io non lo considero un territorio occupato perché Dio ha dato questa terra al popolo ebraico. Se vuoi dire occupato, è occupato, penso, dal popolo palestinese. Loro stanno occupando la nostra terra perché la Bibbia dice chiaramente che Dio l'ha data al popolo ebraico. Non tutti credono nel vostro Dio, nel valore della Bibbia come legge. Non sarebbe meglio trovare un terreno comune, una legge umana valida per tutti nello stesso modo? L'identità del popolo ebraico è basata sulla Bibbia. Questo è ciò che siamo. Senza la Bibbia non siamo niente, non siamo un popolo. La Bibbia ci definisce. Questo è ciò che siamo. Questo è ciò che rende il popolo ebraico unico al mondo. Se vuoi saperlo, il mio rabbino parla molto bene l'arabo e studia il Corano. E nel Corano è scritto che nell'ultimo giorno il popolo ebraico tornerà nella terra di Israele. Quindi un buon musulmano dovrebbe riconoscere che questo è il compimento di una profettia che è contenuta anche nel Corano. Le Nazioni Unite hanno stabilito molto tempo fa che in questa terra devono esistere due stati sovrani e indipendenti, Israele e la Palestina. Penso che Dio ne sappia di più delle Nazioni Unite. I palestinesi oggi in Israele vivono vite indipendenti. Gli israeliani non dicono loro come vivere. Fanno politica come vogliono. Costruiscono le proprie città come vogliono. Hanno la propria polizia nelle proprie città. Hanno le proprie leggi. Sono completamente liberi. È solo che non comandano nel paese. Pensi che il 2 settembre ci sarà l'indipendenza della Palestina? In realtà non penso che ciò avverrà. Non penso che Dio lo lascerà accadere. Penso che Dio controlli la storia e ogni aspetto delle nostre vite. Dio controlla ogni cosa. Persino quando sei punto da una zanzara, Dio controlla tutto. Non penso che Dio lo lascerà accadere. Perché Dio mantiene le sue promesse. E allora credo che Dio questo. È la sanzara che Dio controllo gli aspetti in ragazストala. Dio controllo gli aspetti. Oggi è un'amplante di raccogli. E allora credo che Dio controllo gli aspetti. Grazie a tutti.